Poi cerca di nascondere la spera Valentini ma viene contrastato molto bene dal numero 7 in maglia rossa che può propiziare il contropiede e la gira da quest'altra parte cerca di convergere ancora di Girolamo ancora per un compagno poi sul fronte destro le tira in porta e arriva il vantaggio dell'atletico Whisper al 24esimo minuto di gioco proprio allo scadere Campo in maglia gialla che la perde e favorisce ancora il contropiede dal fronte destro nuova possibilità c'è al centro fuoco lì vicino di Girolamo la riceve prova a girarsi con il sinistro potentissimo ma che finisce fuori ancora fronte destro dall'alzare il ritmo necessario in questi ultimi minuti ma ancora di Girolamo la recupera sulla tre quarti punta la porta avversaria in zona tiro se la prepara con il destro ancora in calcio d'angolo Murracci Angolo battuto al centro a rientrare la palla che viene deviata ed il gol del raddoppio di Girolamo è stato lui la zampata vincente